Ora veniamo a Pentagon con il Cleos, un nuovo borsello EDC. Beh io i borselli li uso tutto l'anno, questo è semplice ed è anche abbastanza contenuto nelle dimensioni. Overe un borsello contenuto nelle dimensioni significa anche non esagerare con quello che ci portiamo. Quindi spesso, soprattutto quando siamo fuori in estate a fare una passeggiata sul lungomare, beh qualcosina, magari pannelli solari, accette, stintori, possiamo lasciare tutte queste cose magari in macchina e portare un EDC più contenuto. Comunque ben organizzato. Abbiamo una prima tasca qui, una tasca semplice per inserire chiavi, quello che vi pare, verticale e una tasca diciamo organizer, una tasca admin. Ha tre elastici su cui inserire, ecco facciamo un esempio, se io porto una P23i di Nightcore la posso inserire senza problemi in questo alloggiamento. Aggancio la clip come si deve ed eccola disponibile sempre quando mi serve. Lo vedete benissimo perché è arancione, l'accettino con il suo moschettoncino per una torcia portachiavi o qualsiasi cosa e tasca per un taccino, telefono, quello che vi pare. Questo era il pannello admin. La tasca principale che ha questo cursore dotato anche di un'impugnatura in paracord è iper comoda e configurabile. Ora vi faccio vedere come. C'è una tasca con elastico nella parte davanti. Beh qui come al solito pannello velcro per agganciare una fondina per la pistola. Ma se non portate una fondina velcro tornano utilissimi questi organizer di Savotta per agganciare di nuovo torce, cose e in tutte le posizioni. Le tasche del Cleus non sono finite. C'è anche una tasca qui sul retro per inserire bigliettini e cose varie al volo. Beh che dire nella sua semplicità e con la sua doppia zip tra l'altro hanno tutte e due le tasche. Questa è una cosa comodissima perché destrimani magari porterete le zip, lo porterete a sinistra e la zip le terrete su quest'angolo. Se invece siete mancini le zip magari le terrete su quest'angolo qui. Piccolino, economico, resistente, fatto bene da Pentagon. Siamo contenti di averlo su Backpack ed è disponibile in diverse colorazioni che trovate linkate qui sotto.